Quest'anno le olive la gente non è andata proprio a coglierle perché dice se deve andare a cogliere 30 kg d'olive e poi sono cattive non le raccolgo. È dall'87 che io dal primo giorno diciamo che mi sento male, no, però ho addosso questa ansia perché il frantoio non gira, perché le notti non si fanno assolutamente. Un anno così non si vedeva da tempo, frantoio e mezzo servizio, produzione calata di oltre l'80% e inevitabili tagli agli stagionali e ancora una volta disastro moscaolearia. Qui c'è la moschina precisa, eccola qui, ma non una, in tutte. Cosa fa la mosca l'oliva? La fa in fratici aria, ma la rende veramente non idonea per la macinatura, è una cosa fuori normale, quest'olio qui neanche per metterlo alle macchine. Il 2019 è stata infatti una delle raccolte peggiori dell'ultimo decennio. Stima circa un 80% di raccolto perso, quindi situazione veramente drammatica per le nostre aziende agricole che va a cuire una situazione già molto difficile. Si sono salvate un po' le zone più in alto, proprio perché lì la mosca ha avuto vita più difficile. Molte le coltivazioni in cui le olive sono rimaste attaccate agli alberi, la maggior parte sono infatti infettate dalla mosca e non è più conveniente raccogliere le altre. Lei cosa raccoglierà quest'anno? Niente, l'anno zero. L'anno solamente per lavorarli ci vuole passare centinaio di euro di gasolio, più tutto il tempo. Ora si è stato tolto le frasche sotto, poi ci da ripotarli, poi insomma a primavera vanno riconcimati, poi ci sono i segnali, poi insomma qui è una rimessa continua. Di olio nuovo dunque ce ne sarà ben poco, si torna così a vendere quello del 2018 quando la raccolta era stata ottima e abbondante. Ancora molte aziende a retine hanno olio dell'anno scorso, olio di ottima qualità, sicuramente meglio dell'olio di tanti oli industriali che si trovano al supermercato, quindi il consiglio è se non trovate l'olio nuovo va benissimo anche l'olio dello scorso anno.